Sono Matteo Fogli, mi occupo di performance in modo che è un'azienda che ho fondato qualche anno fa, tra l'altro è qua in toolbox il pezzo locale, visto che siamo distribuiti tra Bologna, la Toscana e ovviamente con clienti, principalmente a Milano. Che cos'è Speed Curve? Speed Curve, di cui appunto Oleg ha detto che siamo rivenditori, è un prodotto sviluppato da un'azienda australiana, neozelandese in realtà, dietro cui ci sono Mark Zellman e Steve Solder, Steve Solder ex Googler, ha scritto diversi libri tra cui uno in particolare per Orilli in cui parla di web performance e si occupa di web performance da credo almeno dieci anni, before it was cool sostanzialmente e il prodotto è un prodotto almeno dal mio punto di vista molto interessante, non è l'unico, ce ne sono molti altri, anche diciamo in questa fascia tra prezzo e caratteristiche, per esempio mi viene in mente, giusto per dirvelo in un paio, c'è Calibre che è molto valido come alternativa a Speed Curve, mentre su una fascia decisamente più complessa e direi anche più tecnica, New Relic piuttosto che altre cose del genere. In particolare quello che ritengo che sia il miglior beneficio di Speed Curve sono due cose, il fatto che abbina la componente di test sintetici alla componente di Real User Monitoring, vedremo velocemente che cosa sono queste due definizioni, e l'altra cosa che trovo decisamente interessante è il fatto che presenta delle dashboard molto facili da comprendere e da leggere, ma contemporaneamente con la possibilità, lo so che si vede male, ma in realtà lo vedremo uscendo dalle slide entrando direttamente nel prodotto, avendo una faccia comprensibile e facilmente agibile da un punto di vista di decisioni per un utente di tipo business, quindi un product owner, un responsabile di un prodotto digitale, piuttosto che di un e-commerce o di qualunque altro oggetto digitale, che dipendendo dalle performance per raggiungere degli obiettivi o di utenza o di conversione o altro, ha bisogno che appunto la parte di velocità di caricamento di un sito sia particolarmente curata e ha bisogno di vedere che non ci siano né regressioni o che non ci siano diciamo dei rilasci successivi che magari introducono appunto dei problemi. in questa eterna lotta sostanzialmente tra aumento delle feature e contemporaneamente mantenimento delle performance di caricamento. Tra l'altro, questa è l'occasione per puntualizzare, SpeedCurve è uno strumento per misurare il tempo di caricamento all'interno del browser di una pagina web. Ci sono altri tool di performance management che controllano diciamo la filiera lato server, quindi la parte di generazione della pagina se ci sono delle logiche dinamiche piuttosto che di approvvigionamento dei dati da database o colloquio con diciamo middleware e terze parti di back-end. SpeedCurve fotografa la parte browser e dicevo con delle dashboard comprensibili tanto per un utente di tipo business quanto invece per un utente tecnico, quindi uno sviluppatore che ha bisogno di capire una volta che vede un'anomalia nel grafico dei tempi di caricamento o delle metriche che sono disponibili perché si è verificata quell'anomalia. SpeedCurve è un tool che nella parte di test sintetici è basato sostanzialmente su web page test. web page test di nuovo è un prodotto open source libero, questo è disponibile sia in dei container docker sia in delle immagini per AWS, sia installabile attraverso diciamo altre forme di deploy e soprattutto c'è su webpagetest.org, anzi quasi quasi, webpagetest è distribuito, nel senso ci sono una serie di aziende o fornitori di hosting che hanno messo a disposizione un'infrastruttura su cui è presente webpagetest e che gratuitamente permettono di effettuare test quindi da location in tutto il mondo, compreso in Europa, compreso Milano, ci sono credo un paio di, eccolo qua, un paio di soluzioni di testing e scegliendo tipologie di browser non tutti implementano tutte le tipologie, spesso i browser sono in emulazione e poi inserendo un indirizzo si ottiene il test che viene fatto, è un test in cui in pratica un browser carica questa pagina e traccia tutti gli eventi durante il caricamento. Questo tracciamento è disponibile appunto su WebPageTest ed è disponibile su Speedcurve che lo integra in termini storici, quindi in particolare la differenza significativa rispetto a WebPageTest è che su WebPageTest voi fate un test alla volta e quindi in qualche modo, se volete vedere un andamento nel tempo delle performance di un sito o confrontare magari siti diversi, il vostro sito è quello di un concorrente, dovete farlo manualmente, nel senso fare i singoli test, poi prendervi i dati che vi interessa confrontare e farlo tradizionalmente mettendoli su un Excel piuttosto che in qualche modo diciamo tenendovi una traccia storica che è in realtà l'operazione che fa Speedcurve e quindi vi permette con queste dashboard in cui in questo caso per esempio avete le metriche che sono prese in considerazione sono il tempo di rendering dell'H1 nella pagina, il tempo di rendering dell'immagine in background più grande presente e il tempo di rendering dell'immagine più grande non in background, in questo caso tutto rispetto all'above default, cioè la porzione di pagina visibile nel browser al primo caricamento. e lo trovate tracciato appunto su una metrica storica, in questo caso va dal 24 gennaio al 19 febbraio, con i singoli test che sono evidenziati sulle metriche che sono individuate, che potete anche isolare, quindi spegnere e accendere, e poi per ciascuno però potete vedere il dettaglio, non soltanto il singolo valore, ma aggiungere delle note, diciamo per documentare magari delle anomalie, piuttosto che vedere in dettaglio il test. Il test che vedrete in dettaglio, eccolo qua, questo è un test in dettaglio, in cui vedete, e questa è una vista che chiaramente un utente business non ha bisogno di vedere, ma in ogni caso diciamo non gli darebbe alcun tipo di informazione rispetto a quelle che invece aveva nelle viste precedenti, e che invece uno sviluppatore utilizza per individuare qual era, diciamo, l'anomalia eventuale o qual è il motivo per cui quella determinata pagina in quel momento è stata caricata più lentamente o ha introdotto appunto un problema. Quello che vedete qua è quello che in gergo si chiama waterfall, cioè la sequenza ordinata di caricamento delle risorse presenti in pagina, abbinata alla filmstrip, quindi alla, diciamo, ai fotogrammi scattati sul rendering della pagina nel browser ogni x millisecondi. Quindi potete anche generare un video, anche il web page test lo fa, e tra l'altro lo potete fare anche confrontando test diversi, e questo vi permette di vedere fianco a fianco come, per esempio, un intervento di ottimizzazione migliora, ma visivamente, il momento in cui appaiono le cose in pagina. Chiaro che se noi facciamo i test con il browser caldo, quindi, diciamo, con la cache già inizializzata e con alcuni elementi in cache, su delle connessioni veloci con dei tempi di latenza molto bassi, e con dei browser di tipo desktop, quindi con parecchia potenza di calcolo, siamo nella situazione ideale. Prendiamo un telefono, batteria magari al 50%, connessione anche 4G, basta che ci sia un po' di disturbo, un po' di problemi di connettività, che magari ci stiamo semplicemente spostando ed entriamo in una zona in cui c'è un pochino più di schermatura, aumenta la latenza, quindi magari la pagina comincia al caricamento con una velocità anche buona, ma durante il caricamento certe risorse impiegano più tempo ad essere scaricate, semplicemente perché aumenta il tempo di colloquio con il server, non tanto il tempo di download, piuttosto che la velocità di esecuzione della pagina all'interno del browser e del telefono rallenta perché ho il 50% di batteria, e quindi il sistema operativo comincia ad abbassare la velocità della CPU e della GPU, che sono le due componenti all'interno del telefono che consumano più corrente, perché sono quelle che scaldano di più, diciamo, in termini generali. Quindi meno calcoli e meno velocità di disegno. Queste due cose ovviamente si riflettono immediatamente, diciamo, in quanto bianco voi vedreste lì, magari invece che cominciare a disegnare dopo mezzo secondo, potrebbe cominciare a disegnare dopo uno o uno e mezzo. E se voi vi spostate sostanzialmente lungo questa, che potete scrollare adesso, scrollando, voi vedete che ci si sposta, ci sono delle righe verticali che rappresentano i principali marcatori delle metriche di front-end, quindi abbiamo la prima linea e il tempo di risposta del server, quindi in 0,27 secondi il back-end ha cominciato a darci l'HTML di questa pagina. Tutte queste informazioni le potreste vedere anche da Chrome o da Firefox nell'Inspector. Quello che è comodo è poterlo vedere anche a posteriori, in qualsiasi momento, per andare a recuperare una situazione pregressa. E questi test qua sono quelli che chiamiamo di sintesi, cioè dove sostanzialmente se io, diciamo, in condizioni normali, lo ripeto, ottengo sempre lo stesso risultato, perché sono in una condizione, chiamiamola così, in vitro. Quindi ho una macchina virtuale che viene tirata su, completamente pulita, senza niente, viene aperto il mio browser, non c'ha niente dentro, non c'ha estensioni, non ha mai visitato una singola pagina internet, chiama il mio server, quindi il server di cui io voglio testare la URL, registra tutto quello che succede e me lo dà. Questo test viene ripetuto dalle 3 alle n volte, dove n è un numero dispari, in modo da poter scartare il risultato peggiore e il risultato migliore e prendere all'interno, diciamo, dei test residui il test medio, nel senso che diventa a quel punto una mediana. Se scarto il risultato migliore e il peggiore e prendo la media di quello in mezzo, ottengo il test mediano. Cosa che fa anche, peraltro, WebPageTest, nel senso che di solito vi chiede, ecco, questo era il test della pagina di Toolbox, in questo caso vedete che il risultato median è il 2, i test in questo caso sono stati 3, il median è ovviamente il 2, inteso come 1 tra i 3 scartati il migliore e il peggiore, tra 3 ovviamente scarto il migliore e scarto il peggiore me ne resta uno solo. Se ne avessi più di uno, perché ho fatto 7 test, diciamo potrei avere una variabilità un pochino più alta e magari un dato un pochino più significativo. Vedete che, al di là, diciamo, delle metriche che riporta WebPageTest, credo che abbiamo fatto anche un talk già sulle metriche in generale, quindi ne accenno oggi, ma sostanzialmente vado un pochino più veloce per farvi vedere la piattaforma, qua trovate lo stesso waterfall che abbiamo visto su SpeedCurve. E trovate anche su WebPageTest, vi facevo vedere prima la parte di screenshot, eccola qua, che è quella filmstrip sostanzialmente che c'è, questo è il sito completamente renderizzato, e nella parte di dettaglio ci dovrebbe essere anche la possibilità nel singolo test, scusate, dovrebbe essere questo qua, quindi mi vado a prendere il test, diciamo che è stato identificato come quello più significativo, dovrebbe essere questo, questo sì, c'è lo screenshot, ma c'è anche la parte, forse non gli ho detto di farli, non ho flegato il campo, per dirgli generami anche la filmstrip, quindi l'elenco dei fotogrammi e poi eventualmente il video. La stessa cosa, dicevo, succede su, vediamo, dovrebbe essere questo il test che stavamo vedendo, no, era un altro, ma va bene anche questo, nel senso che il risultato è sostanzialmente lo stesso, dicevo qua, vedete, le principali metriche di frontend, quindi i tempi di risposta per questa pagina, da 0,4 secondi il tempo di risposta del backend, 0,6 l'inizio del rendering, dove per l'inizio del rendering vuol dire che il browser è nella condizione di poter disegnare sullo schermo, mentre il first meaningful paint è quello che il browser considera la componente, la prima componente significativa che riesce a disegnare, cioè dove sostanzialmente non è che un pixel vale l'altro, è meglio se riesco a scrivere un testo, a mettere un'immagine o un logo o qualcosa del genere. Dopodiché nell'ordine delle metriche abbiamo lo speed index, cioè questa è una metrica un pochino complicata che è rappresentata dal tempo e dal rapporto tra il tempo e la percentuale di spazio nella finestra del browser che è stato disegnato, quindi per semplificare molto, io ho due siti, si caricano tutti e due in 5 secondi la parte che vedo nella finestra del browser, e in entrambi i casi ci mettono 5 secondi. Il sito A dopo un secondo è pronto al 90%, poi ci mette ancora 4 secondi per arrivare al 100% della porzione di schermo. Il sito B invece è sempre a 0 per i primi 4 secondi, poi schizza al 90% al quarto secondo e al 100% al quinto secondo. Quindi ci mettono tutti e due 5 secondi ad arrivare a farmi vedere il contenuto, ma il primo sito ci mette molto poco a farmi vedere abbastanza contenuto, il secondo invece no. Lo speed index fotografa questa situazione, cioè fa sostanzialmente un rapporto tra quanto, quanta parte dello schermo è stata disegnata rispetto a quella diciamo che sarebbe stata disegnata alla fine, in quale momento. E quindi diciamo sostanzialmente come se fosse una sorta di calcolo delle aree dello schermo ad ogni diciamo porzione di tempo. Quindi è un numero che corrisponde ad un tempo, quindi viene inserito nel diciamo nella timeline, però è un indicatore confrontabile tra siti diversi per sapere se noi siamo in grado di fare vedere il contenuto della nostra pagina più rapidamente, anche se è incompleto. Più è basso questo numero, più le cose che riusciamo a far vedere arrivano in fretta. Più è alto, anche a parità magari di tempi di caricamento complessivi, e più lenti siamo rispetto ad un altro sito. Poi abbiamo il classic eventi browser, cioè il DOM content loaded, quindi ho caricato tutto quello che c'era da caricare sulla prima lettura dell'HTML, e il visually complete, cioè ho finito di disegnare sostanzialmente, quantomeno ho finito di disegnare le cose che ci sono diciamo in pagina e che erano previste in pagina nel momento in cui mi è arrivato l'HTML, perché poi vedete a 10.07, quindi in realtà il browser non ha smesso di disegnare, ma ha inserito questa immagine qua, che probabilmente è in lazy load, per cui quando è arrivato al visually complete quell'immagine lì era la stessa, quindi probabilmente questo è un diciamo un falso positivo del tracciamento, che uno potrebbe anche andare a vedere. Qua le metriche le vedete, diciamo si vede poco, perché qua dietro diciamo c'è il waterfall, diciamo in formato abbastanza compatto, poi qua ci sono ancora alcune metriche aggiuntive, e poi se scendo lo posso esplodere, e a quel punto lo vedo in dettaglio, dove ogni riga è una risorsa che è stata caricata nella pagina, quindi in questo caso con colori diversi abbiamo i javascript, le immagini, i css, e tra l'altro vengono identificati quelli eventualmente bloccanti, quindi quelli che impediscono al browser di poter disegnare con diciamo un'evidenza grafica diversa, e sotto avete invece l'analisi dell'occupazione della CPU durante la fase di rendering della pagina, questo è abbastanza importante perché vi permette di identificare se ci sono delle componenti javascript che occupano in maniera abbastanza pesante il browser, tenuto conto che la parte di javascript gira sullo stesso thread, che è un termine tecnico per dire lo stesso omino che lavora, si occupa tanto della parte di rendering, quindi della parte di disegno sul monitor, sullo schermo, quanto della parte di esecuzione degli script. Lo fa ovviamente con un meccanismo alternato, si occupa un po' di una cosa, quando ha smesso di fare quella si mette a fare l'altra e così via. Vi consiglio caldamente di guardare i talk di Jack Archibald sull'event loop perché spiegano perfettamente che cosa fa il browser e perché ogni tanto non risponde, soprattutto quando sta eseguendo del javascript. Però è abbastanza importante perché noi dovremmo cercare di spostare la quota di esecuzione di javascript, quindi diciamo la parte più gialla, qua ovviamente se mi ci metto sopra vado in un dettaglio eccessivo, però trovate, adesso mi è molto difficile scrollare, qua c'era la leggenda delle cose che avete visto sopra e qua c'è il pezzo di analisi della CPU durante la timeline di rendering. Qua sotto lo vedete, lo stesso diciamo la stessa informazione, la vedete aggregata per percentuali durante i vari tempi ed eventi, quindi il tempo di esecuzione dello scripting fino all'inizio del rendering, fino al caricamento della pagina e fino al fully loaded, quindi dove la differenza tra page load e fully load e page load ho caricato tutte le componenti presenti nell'HTML, fully load ho caricato tutte le componenti che sono state aggiunte all'HTML dall'esecuzione di script o di altre componenti di pagina. E voi trovate in questo caso la suddivisione, quindi nella quota parte, sia in tempo assoluto, 2,8 secondi di esecuzione dello script, sia in tempo percentuale, dove la parte grigia è quella che è positiva, è quella dell'idol time, l'idol time è il tempo in cui il browser non fa assolutamente niente, che è fondamentale, perché se il browser non fa assolutamente niente sostanzialmente è diretta a voi che siete l'utente, quindi se voi cliccate, scrollate, fate qualunque cosa, il browser è in grado immediatamente di rispondere all'interazione utente. Se il browser invece è occupato in una o qualunque delle altre operazioni, in particolare se è occupato nella parte gialla, nello scripting, e nella parte viola, nella parte di layout, un po' meno nella parte di painting, perché quella in gran parte riesce ad essere delegata alla GPU, quindi la scheda grafica. In quel caso, proprio per quel motivo che dicevamo prima, che è sempre lo stesso Mino che fa tutte le cose che servono, se voi bussate alla sua porta e gli dite ho bisogno di cliccare su questa cosa qua, lui finché non ha finito di lavorare su JavaScript o sul layout, non vi ascolta. E questo è il ritardo nella risposta agli eventi utente, che è la condizione, diciamo, un po' più fastidiosa, cioè quando voi vedete la pagina e la pagina c'è, la vedete già, cominciate a cliccare o volete scrollare e non succede assolutamente niente. Poi magari dopo mezzo secondo, un secondo, esatto. Quello è perché il browser era occupato, diciamo, su un'esecuzione bloccante ed è una delle cose tipicamente JavaScript ed è una delle cose che va evitata. L'altra cosa che vi volevo far vedere sempre di Speedcurve, questi sono tutti, questa è, diciamo, la vista dei test sintetici, la trovate infatti qua come synthetic. Tra l'altro, non ve l'ho detto, ma Speedcurve ha diverse fasce di prezzo, la principale differenza è che nella fascia base non siete, non c'è un abbonamento sostanzialmente, c'è un numero di test minimi che viene fatturato su base mensile che corrisponde circa a 20 dollari. Il primo mese è assolutamente gratuito, quindi uno può attivare un'utenza e per un mese fare dei test senza costo. Dopodiché, se vuole continuare, tra l'altro, mantenendolo storico, c'è questo primo livello di abbonamento gratuito dove sostanzialmente c'è un numero di test forfettario che corrisponde ai 20 dollari al mese e test aggiuntivi invece vanno ovviamente mano a mano con dei criteri diciamo di consumo ad aggiungersi a questa soglia. Il primo salto significativo è sulla proposta Enterprise che quindi invece è rivolta ad aziende di medio-grandi dimensioni e che quindi hanno magari più di un sito o vogliono monitorare tutti i template del loro sito su cui hanno parecchi aggiornamenti e quindi hanno dei volumi di test decisamente più alti con dei prezzi che appunto sono sostanzialmente nell'ordine di grandezza dei 5.000 euro all'anno più o meno l'ordine di grandezza è un pochino questa e alla proposta Enterprise è abbinata la proposta Lux che è la parte di Real User Monitoring quindi la differenza tra i test sintetici che sono quelli che stiamo vedendo qua vi faccio vedere poi ancora un paio di schermate che sono la possibilità di confrontare dei deploy quindi anche con la Continuous Integration quindi anche con un processo automatico quando rilascio un aggiornamento del sito automaticamente scateno un test e scateno questo test per confrontare il livello di performance che ho diciamo sul rilascio precedente rispetto a quello attuale e quindi in questo caso fotografare eventuali peggioramenti oppure verificare dei miglioramenti lo potete il confronto lo potete fare come vi dicevo anche eventualmente con un confronto visivo e quindi verificare se e quando le cose i componenti della pagina arrivano rispetto alla versione precedente in questo caso per esempio vedete che questo rilascio del 23 di aprile rispetto a quello del 2018 0423 rispetto a quello del 7 marzo ho portato il 45% di miglioramento sulla metrica del DOM content loaded e così via qua trovate la differenza visiva in questo caso è significativa la differenza visiva cioè sono proprio diciamo due pagine con contenuti molto diversi il che non permette di verificare al meglio che quel 45% di incremento positivo sia davvero un 45% perché magari è legato a qualche altro fattore l'ideale sarebbe avere delle pagine di test ma di produzione su cui per esempio se c'è un aggiornamento del template viene aggiornato ma parità di contenuti quindi io so che l'intervento che vado a confrontare è esclusivamente quello che ho portato e non una variazione legata a c'era la dv è stata caricata un'immagine di dimensioni anomale è stato inserito un video invece che un'immagine e cose di questo tipo che ovviamente possono drogare le metriche l'altra cosa che potete vedere ovviamente oltre alle metriche che vi facevo vedere inizialmente quindi quelle legate all'above default che sono quelle percettivamente più rilevanti per un utente quando arriva sostanzialmente quando arriva quello che mi permette di capire dove sono che normalmente è il logo del sito o il nome del sito se è scritto solo col testo quando arriva il primo contenuto di questa pagina quindi se è un articolo quando arriva il titolo dell'articolo o la foto principale dell'articolo piuttosto che appunto non so invece l'immagine di marca che mi permette di capire e di convalidare il fatto che se no sul sito giusto questa cosa qua soddisfa il mio interesse se pensate alla perdita di attenzione che c'è oggi nel momento in cui clicco su qualcosa e probabilmente non sto neanche facendo così tanta attenzione su cosa clicco poi abbiamo una diciamo una gestione del del traffico verso i siti fatta molto sui social media quindi sui social media che è normalmente molto rumoroso e molto affollato in cui facciamo il caso della moda un marchio è vicino a un altro suo concorrente intercetta un click perché l'utente ha visto un'immagine di una campagna che gli è piaciuta piuttosto che di un post social che gli è piaciuto ci clicca sopra arriva sul sito questo ci mette un tot di tempo a caricare se resta bianco per più di un paio di secondi chiuso via perso queste sono statistiche vere le abbiamo già citate ma il punto fondamentale è che nel momento in cui l'utente vede una pagina bianca anche se la vede solo per un secondo in quel momento non sa neanche perché sta guardando quella cosa non si ricorda di che cosa ha cliccato un secondo prima ma pensateci potete essere magari magari siete in metropolitana siete state camminando siete sovrapensiero siete stanchi la sera state tornando a casa cioè a un certo punto cliccate con state col telefono cliccate non sapete cosa avete cliccato cioè e quando arrivate quando vedete quello che viene diciamo fuori nella pagina che comincia a comporsi che capite ah sì ok questa cosa qua va bene adesso magari la leggo scorro un po' vedo se effettivamente mi interessa quindi è molto importante cercare di far arrivare le informazioni principali il più presto possibile che sono dove sono che sito è sostanzialmente e che cosa c'è da vedere qua sopra perché ci avevo cliccato sopra cosa c'è di interessante tutte le metriche sono sia su desktop sia su mobile sulla parte di test di sintesi SpeedCurve usa l'emulazione e introduce una correzione sul tempo di esecuzione della CPU una correzione sui tempi di diciamo sulla banda e sulla latenza delle connessioni e ovviamente è responsibile dal punto di vista della dimensione di schermo sostanzialmente usa il motore di Chrome SpeedIndex scusate SpeedCurve sulla parte di test di sintesi a differenza di WebPageTest non supporta device reali questo perché utilizza l'infrastruttura di Amazon e quindi ha queste macchine virtuali che vengono tirate su nel momento in cui avete bisogno di fare un test la garanzia è che la macchina virtuale è completamente pulita il diciamo il tradeoff il controcanto e che effettivamente non ci possono essere attaccati dei device fisici se siete clienti molto molto grandi potete avere una vostra infrastruttura di WebPageTest configurata per esportare tutti i dati su SpeedCurve e quindi vedere i vostri test con questo tipo di dashboard e di interfaccia a quel punto supportare anche device specifici e per singola pagina in questo caso è quindi la home è stata scelta la home una pagina in particolare di solito si lavora per template o tipologia esatto perché le differenze più significative sono rispetto a come è fatta fisicamente una pagina quindi il codice che genera i contenuti sul browser e i contenuti stessi cioè i due fattori che possono influenzare sono questi i contenuti da un lato e la struttura della pagina quindi di solito appunto dicevo si prende o si prende una pagina anche con dei contenuti che cambiano periodicamente soprattutto perché si vuole perché quella pagina in realtà è consumata dagli utenti così cioè oggi c'è una notizia fra un minuto c'è l'ultima ora e fra un'ora c'è lo speciale su un fatto di cronaca se è un sito di news e quindi ha senso effettivamente monitorare questa variabilità perché è una variabilità che vivono anche gli utenti viceversa se io sono in una diciamo in una situazione più strutturata e ferma nel tempo per cui ho la pagina prodotto una volta che ho caricato il prodotto quella pagina è sempre uguale sì posso fare degli aggiornamenti ma magari cambio immagini introduco viste diverse del prodotto però è la pagina prodotto creo nuovi prodotti ma la pagina prodotto ha quel tipo di funzionamento e quindi misuro la stessa pagina per vedere in realtà se sono gli interventi di sviluppo che introducono delle variazioni non tanto la parte di contenuti e poi questa cosa abbastanza importante per la parte invece di benchmark che in cui potete confrontare più di un soggetto quindi per esempio qua vedete che ci sono siti diversi si vede molto poco perché però ci sono siti diversi che vengono classificati questo è il primo questo è il quarto la zetta questo è il secondo e questo è il terzo ho oscurato il nome del cliente ma non farete fatica a riconoscere chi è e in questo in questo caso tu hai siccome il test è somministrato diciamo così da fuori io posso farlo sul mio sito ma posso farlo anche sul sito del mio concorrente e quindi utilizzando delle label che mi permettono di identificare le pagine per tipo articolo videogalleri prodotto on page offerta speciale o cose del genere e le chiamo le chiamo su speed curve nello stesso modo ma creo siti diversi da testare speed curve ve lo faccio vedere rapidamente ma ha un meccanismo di gestione del diciamo voi potete creare i siti quindi aggiungerne quanti ne volete gestire da dove vengono diciamo qual è l'origine dei test di fatto qual è la regione di AWS da cui vengono somministrati i test quali browser volete utilizzare per i test e in che momento del giorno volete anche più di uno ovviamente quindi può avere una periodicità fino diciamo con un intervallo minimo di 5 minuti e poi quello che vi dicevo prima quanti test volete che vengano effettuati in modo da poter scartare i due meno significativi in più se avete degli obiettivi di budget cioè sostanzialmente se per determinate metriche volete introdurre un riferimento ideale ad esempio io voglio che il first content full paint che è una metrica che fotografo attraverso i test sia sotto il secondo io quindi posso creare un budget di performance e avere degli alert che mi possono arrivare su slack mi possono arrivare via email e ovviamente vedo nelle dashboard che mi segnalano quando c'è una situazione per cui quella metrica viene supera il budget che ho impostato no su una singola pagina perché se tu volessi farlo su tutto il sito dovresti testare tutte le pagine del sito questa cosa ce l'hai invece con la parte di real user monitoring che però è un approccio completamente diverso cioè mentre questa è sistematica nel tempo perché abbiamo detto io tutte le volte parto da zero prendo un computer nuovo lo attacco lo collego e gli faccio fare il test la parte di real user monitoring invece è dal vivo cioè c'è una micro sonda esattamente come potrebbe essere diciamo lo snippet di analytics che è in tutte le pagine del sito campionando diciamo un utente su n questo per restare all'interno dei budget diciamo di test che uno acquista ma anche perché non ha tanto senso effettivamente testare tutti questi sono utenti veri che stanno consultando il sito in questo momento quindi vediamo diciamo quando lo stanno guardando da dove arrivano che browser stanno utilizzando e qual è il primo evento di interazione quindi qual è diciamo la prima interazione utente che fanno e quante sessioni stanno generando su questi dati qua si possono fare adesso questo è live che è tra virgolette poco significativo nel senso che cambia talmente tanto però il punto interessante è che live fotografa effettivamente gli utenti così come sono quindi quello che è nelle condizioni migliori in assoluto cioè ogni 5 minuti fare fresh della pagina perché vuole vedere se c'è qualcosa di nuovo oppure il sito glielo fa da solo perché c'ha tutti i meccanismi dell'adv che ogni 5 minuti li fanno il refresh della pagina ma intendo ha la cache piena è collegato con la fibra c'ha il computer di ultima generazione e così via e quello che sta in treno sul frecciarossa che un po' prende un po' no si è attaccato alla wifi di bordo poi il telefono gli dice la wifi non funziona più ti sposto un attimo sul 4G perché così comunque ti carico la roba e quello che è importante in realtà a quel punto non è tanto vederli uno per uno quanto vederne la distribuzione si vabbè in questo caso il filtro è su mobile questo è decisamente più interessante di vederli vedere dei numerini che si muovono perché che cosa mi dice questa cosa qua mi dice allora questo è il page load quindi vabbè è una metrica a caso ma potremmo possiamo prendere qualunque ma non è tanto la metrica che è significativa quanto che cosa mi dice questa cosa cioè mi dice che ci sono questa è la distribuzione dei miei utenti rispetto al tempo a questo tempo qua quindi qua siamo a 35 secondi sostanzialmente no io ho 6200 page views in cui questo evento il page load arriva a 35 secondi e ne ho qua 5600 in cui arriva entro un secondo ok quello che è importante non è nessuno di questi due numeri ma è la distribuzione e quindi vedere sostanzialmente che io ho un buon numero diciamo appunto il median è sostanzialmente a 12 e 425 ve lo leggo perché è scritto blu su nero per cui è veramente difficile da leggere però sostanzialmente il median è qua vuol dire che questo è la metà tra quello che sta a sinistra e quello che sta a destra compensato appunto degli scarti meno significativi e quindi vuol dire che io ho la stragrande almeno metà dei miei utenti sta in questa in questa porzione qua e quindi vede il mio sito caricarsi tutto entro 12 secondi almeno la metà al posto di lavorare con il median posso lavorare col 95esimo percentile che è un modo un pochino più diciamo a livello statistico è diverso nel senso dice io prendo il 95% dei miei utenti da un punto di vista della metrica che sto considerando quindi diciamo li fado a calare dentro scremo il 5% peggiore e guardo a quel punto questo 95% come si distribuisce e questa distribuzione è veramente molto importante ancora di più quando voi cominciate a compararla e a confrontarla anche visivamente sommate creando delle dashboard ad hoc per esempio proviamo a vederne una di queste potete creare delle dashboard correlando i dati che volete di quelli che avete a disposizione anche entro certi limiti dati real time con dati sintetici in più come dicevo prima di cominciare la serata potete importare su Speedcurve anche dei dati diciamo non di performance o chiamiamoli più genericamente di business per esempio potreste importare un dato sullo stato dell'utente se è loggato o se non è loggato se aveva già comprato in passato oppure no se è abbonato oppure no o qualunque altro diciamo informazione che voi potreste volere vedere e correlare con quelle più tipicamente di performance in questo caso per esempio vedete intanto vedete due cose il primo è che la distribuzione degli accessi è spaventosamente sbilanciata sulla parte mobile nel senso che queste sono desktop e queste sono mobile e vedete che sostanzialmente mentre per il desktop al di là del fatto che i tempi su desktop sono decisamente più rapidi quindi la mia metà casca a 7 secondi e 3 mentre su mobile la mia metà casca a 12 secondi e 1 che a me già farebbe pensare cioè ho una straordinaria sproporzione di utenti sul traffico mobile e però per loro non sto particolarmente ottimizzando cioè io vorrei se io fossi il business owner di questa roba qua vorrei vedere questi due numeri invertiti cioè vorrei che gli utenti mobile avessero un page load medio o mediano che si attesta più o meno attorno ai 7 poi va bene se quello desktop magari è anche migliore non c'è problema però vorrei vedere tirare in qua questa curva cioè sostanzialmente vorrei che invece che avere una coda lunga qua avessi una gobba molto più pronunciata nella prima parte cioè avessi questi primi questi primi istogrammi molto più alti più o meno diciamo come sono qua e questo lo faccio attraverso le operazioni di ottimizzazione qua per esempio vedete l'interaction time sul primo click tra desktop e mobile ovviamente anche in questo caso vedete che la distribuzione del diciamo degli accessi del traffico è sbilanciata attraverso mobile però vedete che alla fine la mediana è sostanzialmente coincidente cioè a 6 e 8 il che significa che per una ragione che io in questo momento non so ma che si potrebbe poi provare magari a cercare di andare a capire perché se gli utenti mobile se gli utenti desktop prima di cioè in generale si attestano a 6 secondi e 8 per fare il primo click questo potrebbe essere un tema puramente editoriale cioè io ci metto 6 secondi e 8 a prescindere dalle condizioni di caricamento della pagina per capire cosa voglio fare di questa pagina cioè ah ok leggo un articolo ah ok clicco su qualche cosa per andare via o approfondire oppure invece che per 6 secondi e 8 non posso fare niente non credo che sia questo lo scenario però appunto i dati riescono a suggerire diciamo così delle ipotesi di analisi questa è un'altra metrica che vi ho messo in realtà solo perché è abbastanza interessante per il discorso che facevo prima cioè del fatto che il browser è l'unico a lavorare dentro il computer e deve fare tutto da solo il first input di lei è una metrica che è stata coniata per calcolare quanto tempo l'utente aspetta perché il browser dia seguito ad un evento di interazione quindi ad uno scroll ad un clic o a qualunque altro evento molto bene quando questo numero è zero ovviamente più questo numero si alza questi sono credo secondi o millisecondi sì millisecondi quindi va bene in realtà che sia molto concentrato all'inizio se in questo caso noi invece avessimo una gobba diciamo una campana di tipo gaussiano o comunque un picco più spostato verso la parte centrale avremmo un problema cioè vuol dire che c'è qualcosa che impedisce in maniera abbastanza sistematica al browser di rispondere immediatamente all'interazione utente e in questo caso direi che sì il desktop decisamente funziona un pochino meglio però non siamo messi così così male l'ultima cosa che vi segnalo poi magari invece fate delle domande voi ci sono una serie di in particolare è stato integrato dentro Speedcurve Lighthouse che è lo strumento di analisi di Google Chrome che sostituisce in gran parte il la vecchia il vecchio approccio da punteggio del dello speeding site Lighthouse applica una serie di analisi su alcuni capitoli generali che sono performance vere e proprie supporto per progressive web app quindi la possibilità verifica che il sito sia accessibile anche offline che abbia la schermata diciamo di di attesa nel momento in cui è installato localmente come scorciatoia sul telefono verifica una serie di elementi di accessibilità quindi il contrasto tra il testo e gli sfondi il supporto per la navigazione da tastiera e altre cose più una serie di best practices generali e una serie di best practices SEO ciascuna di queste è diciamo ha un dettaglio nel senso che questo auditing che viene fatto fornisce sia l'evidenza diciamo delle buone pratiche che si sono adottate che sono quelle verdi sia quello che invece possono essere i miglioramenti e una stima dell'impatto che hanno questi miglioramenti quindi nel momento in cui uno non ha una strategia dichiarata o degli obiettivi espliciti ma ha un approccio in inglese viene detto da low-hanging fruit cioè andiamo a prendere il frutto della pianta che sta sul ramo più basso perché è quello in cui faccio meno fatica ad andarmelo a prendere e mangiare sostanzialmente questa metafora che chi dà la lingua inglese equivale come dire al concetto di miglior risultato con il minimo sforzo quindi se uno non sa bene da dove cominciare questo che trovate comunque su Lighthouse quindi questo non è Speed Curve che ve lo dà esclusivamente il grande vantaggio di Speed Curve non è tanto il fatto che vi metta in un posto solo della roba che voi avevate già disponibile da altre parti soprattutto se siete degli sviluppatori e avete dimestichezza diciamo con l'approccio alle performance non troverete granché di nuovo eccetto per la parte di Real User Monitoring che oggettivamente si può implementare e l'ha fatto Oleg in un talk quest'anno con Tag Manager quindi si può anche implementare autonomamente usando le API della performance timeline del browser però sicuramente richiede uno sforzo per cui se è possibile adottare uno strumento che ce la fornisce già tanto di guadagnato ma soprattutto è quello che dicevo prima mette tutte queste informazioni in un posto solo e quindi in qualche modo chiude un po' il cerchio tra chi decide anche se oggi siamo un po' più abituati ad avere più parità di ruoli tra chi è diciamo il decisore da un punto di vista business di un prodotto digitale e chi è il decisore da un punto di vista di sviluppo di questo prodotto c'è un pochino più di parità non siamo così asimmetrici come poteva essere in un passato anche abbastanza recente però quello che è importante è che se questa cosa utilizzata contemporaneamente quindi queste dashboard e queste analisi sono utilizzate contemporaneamente da sviluppatori e responsabili di prodotto è facile quando il responsabile di prodotto dice ma questo numero qua possiamo migliorarlo sì e da lì capire quali sono diciamo i primi i primi approcci le prime iniziative che si possono adottare per cercare di migliorarli questo diciamo in generale per darvi una così una visione ad alto livello di quello che fornisce Speed Curve le ultime cose che vi dico sono c'è un blog che periodicamente mette in evidenza o delle novità sul prodotto questo diciamo così è una politica chiamiamola un po' più di marketing ma soprattutto traduce quelli che sono dei segnali o delle evidenze che si raccolgono a livello generale in termini di web performance e ve le restituisce da un punto di vista se avete interesse a capire sul vostro prodotto questo tema generale che magari è venuto fuori potete usare Speed Curve in questo modo per tirare fuori gli stessi dati vi faccio un esempio che ho visto recentemente eccolo qua per esempio questo è Steve Soder che vi citavo prima cioè uno degli architect dietro la soluzione di Speed Curve è uno diciamo dei principali chiamiamo così un po' fondatori da un punto di vista di approccio coinvolgimento allargato di una platea di developer e di evangelist sul tema delle performance ha fatto questa analisi e che tra l'altro è un tema che aveva portato anche Doug Seelers che è un ragazzo americano che è venuto a fare un talk qua mentre era in vacanza in Italia lavora molto sull'Http Archive che ha il grosso vantaggio di permettervi di fare delle query anche sulle metriche di performance su milioni di siti e girare fuori questi dati a livello statistico quello che ha fatto Doug e che ha fatto anche Steve Soder sostanzialmente è cercare di capire ma nella generazione delle pagine dei principali siti come viene impiegato il tempo del browser la parte gialla che vedete è la parte JavaScript e c'è ovviamente una differenza da un punto di vista di valori assoluti tra desktop che era quella che vedevate sopra per esempio l'evaluate script su desktop fa 224 millisecondi e su mobile fa 547 praticamente il doppio è una delle ragioni per cui l'emulazione browser su mobile taglia la velocità della CPU del 50% perché un telefono per quanto moderno comunque è più lento di un desktop però vedete che la distribuzione è praticamente la stessa cioè le fette sono più o meno della stessa dimensione e questa è ancora più significativa cioè la dimensione della diciamo del cerchio in questo caso è basata sul tempo totale e viene presa in considerazione su mobile e su desktop dal 99esimo percentile al 95esimo e poi spostandosi su desktop fino ad avere le mediane ma voi vedete che questa distribuzione addirittura sul 99esimo è straordinariamente più ampia diciamo sembra quasi il pacman però poi occupa comunque sempre la metà o quasi più della metà ed osmani ha fatto un talk ha scritto un mini libro quest'anno sul costo di javascript cioè sul fatto che appunto rispetto a dieci anni fa dove il problema della velocità di caricamento di un sito era legata dalla banda e quindi chi aveva una connessione veloce vedeva un sito caricarsi in fretta che aveva una connessione lenta e c'era parecchia gente che non aveva una connessione veloce basta pensare noi abbiamo un territorio in cui sia con la telefonia mobile ma soprattutto con la telefonia fissa ci sono zone rurali montagne paesini anche soltanto fuori dalle metropoli principali in cui ti portano la 20 mega e c'hai se va bene 2 3 perché 20 mega nominale anche anche a Torino città è 20 mega nominale però di solito ce n'hai 18 19 mentre se voi andate che ne so oltre Cirie ecco già un pochino più difficile non dico poi quando siete in un posto in cui arriva solo Eolo e quindi poi sì sì magari la banda c'è anche ma avete una latenza mostruosa perché siete su dei collegamenti radio per cui al posto dei 4-5 millisecondi di latenza cioè che il tempo che ci mette il computer a parlare diciamo ad avviare la connessione con chi gli risponde dall'altra parte quindi è il tempo in cui come dire si stabilisce la connessione si passa da 4-5 millisecondi a 40 quindi un ordine di grandezza di 10 volte e questo tempo ce lo si porta dietro ogni volta che si apre una connessione quindi è esponenziale questo su speedcar c'è nel senso che è uno di quelle grafiche torte che vedevate quindi voi lo potete tenere sotto controllo dal punto di vista di quant'è la quota parte diciamo di tempo che è impiegato su javascript nel mio sito se siete su siti tradizionali diciamo la fetta più grossa probabilmente è data dalle terze parti ma se già avete dei siti per esempio senza server-side rendering basati su framework di front-end Angular React o Vue.js quel tempo potrebbe essere molto alto quindi il fatto come dire ho citato il blog di speedcurve solo perché magari non vi interessa speedcurve usate tool gratuiti tipo web page test che va benissimo non è perché noi siamo rivenditori di questa cosa che siamo obbligati a venderla a chiunque e tra l'altro questo approccio ci piace molto perché anche loro anche parlando con Mark e con Steve loro sono uguali cioè loro ti dicono no vabbè ma per questa cosa qua usa pure web page test poi se vedi che ti ritrovi ad usarlo tre, quattro, cinque volte magari suggerisci di usare speedcurve ma anche solo nella versione quella da 20 dollari al mese perché magari non serve tanto di più cioè non sono lì per vendere ma sono lì per risolvere problemi soprattutto noi developer il nostro principale problema era quello di far capire che bisognava spendere per ottimizzare le performance e chi decide la spesa è un decisore di business quindi qualcuno è il marketing o qualcuno è diciamo così un product owner un digital product manager poi le sigle sono tantissime quindi se voi vi riuscite a convincere qualcuno ad adottare questo strumento o glielo fate vedere anche appunto sulla fascia diciamo a basso costo gratuita nel periodo di trial e vi fate vedere che effettivamente soprattutto confrontandosi con la concorrenza si riesce a vedere dove il nostro prodotto funziona meglio e dove invece magari gli altri funzionano meglio e da lì in poi vi dotate di uno strumento che contemporaneamente dà dei risultati e fa vedere se lavorate bene che l'investimento valeva la pena dall'altra parte permette appunto a uno che non sa minimamente voi cosa fate dal mattino alla sera pensa che siete solo lì a guardare uno schermo però che effettivamente il vostro lavoro merita e ha un senso io mi fermerei qua non direi altro Speedcurve è su speedcurve.com quindi potete il blog è sotto blog ma il sito è molto facile da trovare speedcurve.com potete registrarvi e avviare appunto questa trial gratuita invece nel caso dopo averlo valutato o anche per una valutazione comparativa qualcuno di voi volesse adottarlo o farlo adottare a qualche cliente io sono qua in toolbox ci sono molto poco in questo periodo perché sto lavorando parecchio a Milano però mi trovate i contatti ci sono o sul gruppo o mi iscrivete o vi fermate un momento adesso o la prossima volta o mi contate su meetup dove volete mi trovate e quindi ben volentieri se volete o se c'è da fare magari una demo da qualcuno insomma possiamo combinare e basta direi che veramente mi fermerei qua se avete domande invece ben volentieri anche direttamente sui dati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti